Nicola iniziamo con il piede sbagliato questa sera di semifinale sconfitta in casa con Modena che ha meritato credo alla fine il risultato finale non lo so Nicola le scorie della Champions qualche difficoltà in attacco che tu come l'hai vista dalla panchina i primi 3 set tutti i 3 set erano sul filo di rasoio che ci c'erano anche delle situazioni che che potevamo gestire meglio ovviamente poi dopo siamo andati in difficoltà stiamo giocando contro una squadra di altissimo livello sapevamo che che ha dei giocatori che con le loro individualità possono risolvere delle situazioni perché l'esempio di questo è il primo set che praticamente praticamente l'ha vinto da solo in cappè le ali inesistente nimir inesistente è andato lui in battuta in attacco praticamente ha risolto la situazione ma come ce l'hanno loro in cappè ce l'abbiamo anche noi dei dei giocatori che individualmente possono tirare fuori la squadra da una situazione difficile per cui è una serie lunga ci sono tre partite da 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 vincere per cui sapevamo che in una serie così almeno una dobbiamo andare a vincere almeno una dobbiamo andare vincere a modena per cui dobbiamo trarre le conclusioni di quello che che abbiamo fatto bene di quello che abbiamo fatto e possiamo fare meglio e andare lì con spirito giusto di affrontare la partita da 0 a 0 perché questo è il spirito che ci vuole grazie Nicola